Il Partito Democratico Provinciale Terramano ha incontrato ieri sera con Nicola Latorre, Vice Presidente dei Senatori PD, cittadini e sostenitori per parlare del problema cruciale in provincia, il lavoro che manca. I dati che riguardano la provincia di Terramo in particolare e la regione Abruzzo nel suo complesso quando si affronta il tema del lavoro sono allarmanti. Dicono all'unisono il segretario provinciale del PD Robert Verrocchio, il responsabile dell'area lavoro, Verticelli, il capogruppo in Consiglio Provinciale Ernino D'Agostino e il sindaco di Mosciano Orazio di Marcello. Al grido d'allarme degli esponenti locali del PD si aggiunge il senatore Nicola Latorre che, senza esitare, ha commentato che questo purtroppo è il fallimento della politica della giunta regionale che si è di fatto dimostrata esclusivamente un comitato d'affari. Bisogna restituire dignità a questa terra, nessuna visione strategica, nessun piano industriale, nessuno strumento di accompagnamento e propulsione all'imprenditoria. Questa di fatto la sindesi della politica regionale in tema di lavoro e di rilancio dello sviluppo. Una regione che non solo è immobile ma che riesce anche a distruggere quello che di buono aveva fatto invece il centro-sinistra. D'altra parte quello che avviene in Abruzzo altro non è che la declinazione a livello locale di quanto accade a livello nazionale. Un'Italia in cui il dibattito politico si può riassumere in due parole, da Noemi a Rubi, un paese che pensa esclusivamente agli interessi personali di Berlusconi e che nega da due anni la crisi economica.